La sua mamma biologica aveva deciso di portare a termine la gravidanza ma non poteva tenerlo con sé. Per questo, come prevede la legge, tre mesi fa la donna ha partorito in anonimato maschietto sano e robusto che è stato affidato al punto nascita dell'ospedale di Cittadella dove è stato curato dagli operatori dell'unità di patologia neonatale. Dopo tre mesi per il piccolo Lorenzo, è in nome di fantasia, si sono aperte le porte e i cuori di una famiglia. Una coppia che, completato il percorso di donità per l'adozione, è stata contattata dal giudice del Tribunale dei minori e ha detto sì. Buona vita Lorenzo e buona vita anche alla tua mamma e al tuo papà.